apri l'alimentatore automatico e inserisci il foglio o i fogli i fogli devono essere messi a faccia in su regola i supporti del foglio oppure metti il foglio da scansionare sul vetro dello scanner è uguale in questo caso il foglio deve essere messo a faccia in giù posiziona l'angolo superiore destro del foglio dove c'è la freccia chiudi il coperchio dello scanner sul computer in basso a sinistra clicca su settaggi stampanti e scanner seleziona la macchina in questo caso una canon tr4550 clicca su gestisci apri lo scanner si apre la finestra se ha inserito i fogli dell'alimentatore adf come in questo caso seleziona alimentatore feeder se li hai messi nel vetro dello scanner seleziona l'altra opzione scegli il formato del file jpeg pdf eccetera clicca su scan per avviare la scannerizzazione la macchina comincerà a scannerizzare il foglio o i fogli se hai selezionato l'alimentatore automatico comincerà a tirare dentro i fogli se invece hai selezionato il vetro dello scanner la macchina comincerà a scansionare il foglio al termine troverai nel tuo pc il foglio scansionato nel formato precedentemente selezionato selezionato